Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su molekoma 5 pronti per un'altra partitozza e siamo nella miniserie roll to diamante con il mescolatore vediamo cosa riusciamo a fare col mescolatore quest'oggi ragazzi allora l'ho noleggiato abbiamo un mescolatore di fronte a noi che ci ha seccato subito pari pari ok ok adesso siamo in fase di riscaldamento ragazzi prima partita lanciata così veloce veloce attenzione ok prenderci la mano attenzione prima uccisione seconda uccisione attenzione di fronte a noi ragazzi uccisione ancora elicottero di lo lanciamo subito attenzione controlliamo tutti gli accessi di fronte a noi attenzione bombardiere che scaccia granate a volontà chi abbiamo qua chi abbiamo qua era uno dei nostri era uno dei nostri ragazzi la torretta è nostra attenzione di fronte a noi nemico siamo un po imboscati ma rimaniamo un altro po qua per per controllare la situazione dell'alto uccisione oh oh di fianco di fianco di dietro di dietro di dietro di dietro di dietro la granata confusione ci ha preso 43 a 28 di fronte a noi ragazzi di fronte a noi ecco qua ecco qua bello uccisione uccisione attenzione cosa abbiamo fatto 50 a 30 allora vediamo 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 cosa abbiamo combinato quest'ordine ragazzi allora non siamo sul podio abbiamo fatto 7 uccisioni e 3 morti perfetto c'è la calibratura in questo momento ok noi ci facciamo la prossima partita abbiamo preso un po di polvere diamante che ci serve soprattutto per i progetti che stiamo mettendo da parte per prendere l'arma ora sono praticamente se non sbaglio a 18 progetti per il mescolatore me ne mancano ancora un bel po ragazzi però sto cercando di mettere da parte più progetti possibile per per sbloccarla totalmente non doverla noleggiare ogni volta ok secondo match allora è in baggio oh guardatelo guardatelo a distanza il coniglietto ti vengo a prendere bello attenzione controlliamo assistenza uccisione oh di fianco è arrivato lui è arrivato lui è arrivato lui quasi preso bello quasi preso no dai dai 0 3 mamma mia ok si è andando a fare di sotto ragazzi preso dietro la cabina si è andando a scosso ecco qua no vabbè dai per pochissimo la granata ceccante gli avevo lanciato per distrarlo muori bello muori bello ragazzi molto dura ragazzi molto dura assistenza assistenza attenzione attenzione mamma mia ragazzi bombardieri a manetta eh bombardieri a manetta grazie grazie mi sono accecato da solo mi sono accecato da solo Decisione bello No vabbè, granate a volontà, granate a volontà, questa squadra è veramente tosta Tosta, tosta, tosta Ok dai, ce ne spariamo un'altra ragazzi oggi Il coniglietto magico qua è bello incazzato Ok, mi piacerebbe andare su scattare, dire la verità Oh grande, tutti quanti ci vogliono andare Si parte ragazzi Ok Allarembaggio Siamo su scattare ragazzi Qui in teoria dovremmo fare un po' meglio secondo me Visto che abbiamo un'arma con tantissima gittata dovremmo trovarci un po' meglio E poi vabbè, è la mia mappa preferita Quindi speriamo dai, vediamo cosa riusciamo a combinare Mamma mia ragazzi Muori bello, muori bello Potenza assoluta, è arrivato il Verpower ragazzi Ok Muori bello Attenzione, attenzione Sta uscendo, sta uscendo, sta uscendo Ecco, eccoti qua Vieni qua bello Vieni qua, lo so che sei lì dietro e stai per uscire Attenzione, bomba a dire che arriva e scaccia E scaccia Noi stiamo camperando un po' qua dentro Ma ci sta Nooo, non ci voleva E' uno dei miei Sono tutti qua, sono tutti qua ragazzi Recon attivano Recon attivano They mobilized a Recon aircraft Preso bello Preso bello Preso bello Ok Partita completata ragazzi Forse qualcosina di meglio abbiamo fatto questa volta Andiamo a controllare Andiamo a controllare ragazzi Non siamo sul podio Ok va bene Ci sta Però abbiamo fatto otto uccisioni Una morte E già si comincia a ragionare Ok ragazzi Noi ci vediamo al prossimo appuntamento Mi raccomando non mancate Continuiamo con questa miniserie Finchè non arriviamo Al di avanti Poi dopo Non so per quanto riuscirò a rimanerci Comunque Ci vediamo al prossimo match ragazzi Ciao a tutti Complimenti Hai terminato la visione Da questo momento Hai 10 secondi Per fare la tua scelta Per fare la tua scelta Ah